Vecine, cisco per tutti il sapore di questo successo, dopo veramente tanti patemi in questa stagione. Tre cose, grandissimo il pubblico di Perugia, grandissimo il nostro pubblico, è una partita non bellissima tecnicamente ma eccezionale come Pathos e il finale è stato grandioso, vi ringrazio tutti. Il carattere di questa squadra. Beh, dopo la Coppa Italia siamo stati molto bravi, ci siamo compattati tutti e non abbiamo mai avuto dubbi di avere allenatori bravi e giocatori bravi, su questo non si discutiamo. Grazie a Stefano Rescine, cisco complimenti per questo scudetto, vediamo un po' Lucky. Sì, tranquillo. Ciao mamma da parte di Stefano Rescine. Salutiamo tutte quante le mamme dello staff, dei giocatori.